Le relazioni che ci possono essere tra un single che magari per scelta o per opportunità o meno sta vivendo una vita da single e il rapporto con il concepimento, sapendo che il concepimento si sono incontrate tutte le parti simili della mamma e parti simili del papà, per cui hanno un po' tirato lì tutto un discorso di coppia appunto, come questo può poi trasformarsi così all'opposto quasi in una persona che poi dopo dice no io sono solo e non si attira, non si attirate le condizioni per far sì che avvenga. Certo noi abbiamo nel concepimento sia la parte femminile e la parte maschile, se una delle due parti quella sera non aveva voglia di fare sesso e non gli piaceva il sesso e avrebbe preferito rimanere sola, se tu vai in quelle parti lì, in quella memoria, tu rimani solo. Capisci? Cioè guardate che è tutto già scritto, cioè non è che noi ci ritroviamo per caso in una situazione, noi ci ritroviamo in certe situazioni perché ci abbiamo già tutto scritto. Solo la comprensione di cosa c'è scritto ci può far uscire da questi memori, da questi meccanismi e quindi poter cambiare la vita. Grazie. 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 Grazie.